salve a tutti ragazzi benvenuti in questo minuissimo video di sony santo 4 bros e oggi vi rifaccio vedere come fare lo shell the clip perchè lo sto rifacendo? è perchè i video vecchi in effetti l'ho spiegato un po' male e quindi ho deciso di rifarlo ah se mi raccomando ragazzi se volete che vi riporto un video vecchio però spiegato meglio oppure dei nuovi video fatemi sapere cosa volete che vi porto nei commenti ma ora direi di iniziare cos'è lo shell the clip? è un glitch che ci permette di passare attraverso i muri tramite lo scudo ovviamente il glitch funziona in tutta quanta Hyrule però il luogo migliore per potersi esercitare è questo sacrario qua il sacrario di Yao Maio che sta qui va a pesca ora dobbiamo saper fare il surf con lo scudo ve lo spiego per chi non lo sa dovete tenere premuto ZL poi camminare in avanti premere X e subito dopo A e come avete visto ho fatto un surf con lo scudo ripeto tenete premuto ZL camminate in avanti poi premete X e subito dopo A ok e come vedete sto facendo un surf con lo scudo perfetto ora cosa dobbiamo imparare? dobbiamo imparare a fare lo skew che cos'è lo skew? è questa cosa qua quando noi facciamo surf con lo scudo solo una pendenza quindi come vedete è una superficie che ha una pendenza occhio guardate adesso il link dove sta guardando sta guardando verso nord il che significa che io adesso ho attivato lo skew verso nord il che sta a sua volta a significare che posso trapassare i muri che stanno sempre a nord chiaro il concetto? non è che se faccio lo skew qui a nord posso trapassare ad esempio questo muro qua perché questo muro qua si trova ad ovest ok? quindi lo skew e il muro che volete oltrepassare dovranno essere nella stessa direzione ah finalmente l'ho spiegato meglio ora però cosa dobbiamo fare? dobbiamo verificare che lo skew sia stato fatto correttamente quindi facciamo un surf con lo scudo e poi quando siamo a mezz'aria lo togliamo e come vedete link fa un'inclinazione fuori dal normale il che significa che il glitch è venuto perfettamente quindi ora possiamo trepassare questo muro guardate come vedete quando link sta più o meno in questa posizione qui gli togliete lo scudo e come vedete ho trapassato il muro guardate ve lo rifaccio rivedere sì come vedete anche in questa posizione potete togliere lo scudo come vedete funziona lo stesso allora occhio però perché questo glitch ha importanti limitazioni il primo su tutti è che se faccio surf con lo scudo per terra guardate ora lo skew mi si è cancellato vedete infatti se io adesso provo a trapassare la parete non la trapasserò mai vedete può starci qui anche 30 anni ma non la trapasserò mai visto quindi ecco anche questo tenetevelo a mente ok e avete finalmente imparato a fare lo shell the clip diciamo facile ok questo che abbiamo imparato si chiama shell the clip di base o semplice perché vi sto dicendo questo ora vi spiego meglio innanzitutto andiamo al sacro di mau ona così vi spiego anche un'altra cosa allora come vedete questo sacrale adesso è aperto è ok ma facciamo finta che questa porta adesso sia chiusa non potrei trapassarla con questo glitch che vi ho fatto vedere adesso perché non funzionerebbe per passare queste porte qui dei sacrali se sono chiuse c'è bisogno del shell the clip esteso che è molto più difficile di quello che vi ho insegnato oggi tant'è vero che io non ci sono mai riuscito ragazzi se qualcuno di voi ci riesce mi inchinerò a chiunque ci riesca perché è veramente un casino farlo quindi per i sacrali chiusi infatti di solito si sconsiglia di passare tramite la porta di solito si cerca un nuovo punto di ingresso diciamo così e calculate questo però ogni sacrario ha un suo punto di ingresso diciamo così diverso ok quindi come io posso entrare qui non entrerò nello stesso modo di qua tranne che per la porta però passare tramite la porta ragazzi è qualcosa di impossibile ve lo posso assicurare quindi che muri posso trapassare con questo glitch che vi ho insegnato oggi quindi shell the clip di base oppure facile chiamatelo come vi pare beh i muri dentro i sacrari ripeto dentro i sacrari oppure dentro la prova della spada tant'è vero che già ci ho fatto un video a riguardo oppure avete presente quando state combattendo contro Gannon che vi danno l'arco della luce se provate ad diciamo a fuggire tra molte virgolette da quella zona avete presente a un certo punto vi dice non puoi procedere oltre giusto ecco perché c'è una parete quella parete potrete a sua volta oltrepassarla con lo shell the clip ma anche su questo ci ho fatto un video a riguardo quindi se ve lo siete persi mi raccomando andatevelo a recuperare ok ragazzi come vedete adesso sono sull'isola d'edalo però non è un caso perché come vedrete lo shell the clip funziona anche per questi muri qua quindi nei muri dei labirinti visto e niente ragazzi questo era tutto quindi spero che il video vi sia piaciuto e o vi è stato utile ragazzi in quel caso lasciatemi un commento like e iscrivetevi al mio canale ma noi ci vediamo presto con un nuovo video quindi ciao ragazzi